Nel bagagliaio di un'auto risultata rubata avevano coltelli, una scacciacani ed attrezzi da scasso. A casa di uno dei fermati è stata trovata merce rubata, un fucile da caccia completo di circa 300 munizioni ed un arsenale di coltelli ed armi bianche, tutto detenuto illegalmente. La Guardia di Finanza di Pescara ha smantellato una diffusa rete di spaccio di cocaina e ascisce nell'area metropolitana, costituita da una banda pronta anche a rapinare esercizi commerciali della zona. Quattro le ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari di Pescara Gianluca Sarandrea su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Gennaro Varone nei confronti di un 50enne e un 32enne entrambi di Montesilvano e un 37enne albanese domiciliato a Roma. Obbligo di dimora invece per un 36enne di Montesilvano, tutti sono indagati per spaccio di stupefacenti, ricettazione, porto e detenzione abusiva di armi. Nel contesto dell'operazione sono state effettuate anche varie perquisizioni domiciliari con l'ausilio di due unità cinofile in provincia di Pescara e a Roma. Le indagini condotte dagli uomini del nucleo di polizia tributaria di Pescara erano state avviate a margine della più complessa operazione a Riosto 2013, a contrasto del traffico di stupefacenti che nel giugno scorso aveva disarticolato una organizzazione criminale senegalese con l'arresto di 29 persone.